lalala lalala a che si o non è la lalala 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 i al six ha haivatore eorema ha old fools Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 i hai 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 ya berarti ke belum rejeki nih guys dapat helm pocher Hai sekarang lagi arah balik no Hai mm-mm hai tysอย insieme abbiamo hai 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 along hai 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 Szą hai 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 viti to make Kartu undertale l'accento luarnya pagacan the guest la di arah balik ni gas rame 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 niente lagi senam seher nih guys lagi senam seher belum rezeki dapat vouchernya eh vouchernya hadiahnya mana alamai guys no sono keluarnya eh motornya tempe ngapan langsung aja Oh ya udah langsung aja guys sekarang gua lagi arah balik klaim mau Madang iya nggak apa-apa dah berarti belum rezeki guys yang penting hatiku senang ya kan rame Oh ya udah guys ya sampai disini saja video gua Insyaallah gue minggu depan mau pesan mori ke pik Pantai Indah Kapuk ya guys ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dooo